Per il ciclo serial thriller 4 milioni uno sull'altro Dipende Per un veterano del mestiere La cosa essenziale è la disciplina Perché questo gioco è sempre un grande rischio Stammi a sentire No, non esiste Ho organizzato la cosa fino all'ultimo dettaglio Troppe complicazioni, troppa gente C'è una porticina, tu la apri Prendi lo scelto, metti la porta e abbiamo vinto Robert De Niro, Edward Norton, Marlon Brando Voilà The Score Sabato alle 21 Con Iris The Score The Score The Score The Score The Score